Eccoci qui, siamo a Roma, appena terminato un incontro del Partito Socialista sulla meritocrazia e sulla scuola, introdotta nella scuola, anche all'interno della dicitura appunto del Ministero dell'Istruzione. Siamo con Enzo Maraglio, segretario nazionale del Partito Socialista che ha organizzato l'evento. Un evento davvero significativo, importante, che ha messo insieme il mondo sindacale, il mondo della politica, i parlamentari, le rappresentanze giovanili e studentesche. L'approccio giusto che va seguito per alimentare una opposizione invece al modello che sta creando il centrodestra al governo, che è un modello che a nostro giudizio vuole portare ad un'aziendalizzazione, ad una privatizzazione della scuola, che invece va difesa come scuola pubblica che è uno degli elementi sui quali abbiamo fondato la Repubblica Italiana e abbiamo fondato l'investimento sui nostri giovani che sono il capitale umano. Lei teme che nella dicitura merito vi sia qualcosa che non farebbe bene alla scuola? Non fa assolutamente bene perché il merito da solo non significa nulla se non si accompagna anche alla scuola pubblica e al ruolo che la scuola svolge soprattutto per aiutare le periferie, per aiutare il disagio soprattutto tra gli studenti, le differenziazioni economiche che si vivono anche all'interno degli studenti stessi. Quindi il merito se non è accompagnato anche a questo profilo sociale solidaristico metterà in evidenza una scuola che farà studenti di serie A e studenti di serie B. Se a questo ci aggiungiamo che non abbiamo dubbi sulla scelta che questo governo porta avanti perché questo è un governo che con l'autonomia differenziata vuole esattamente privatizzare la scuola pubblica, la vuole differenziare tra le regioni, vuole fare 20 sistemi istruttivi diversi, se ne frega delle diseguaglianze, le alimenta e soprattutto vuole mettere in soffitta la scuola pubblica. Lei è stato anche critico nei confronti dell'opposizione, ha parlato di un'opposizione blanda. Ma sì, guardi, se c'è una differenza tra le varie, non soltanto ideologica, tra destra e sinistra è questa. La destra ha dimostrato di saper nascondere tutte le grandi differenze, anche oggi, che si vedono quotidianamente nel governo tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, le sanno nascondere, sanno alimentare cultura di coalizione mettendo i problemi sotto il tappeto, una polvere che aumenta sempre di più ma non si vede. Noi siamo bravissimi invece a dimostrare che non abbiamo cultura di coalizione da troppi anni, abbiamo inseguito la cultura del maggioritario che ha portato ormai ad un'isolezionismo e ad una idea di autosufficienza da parte di qualche partito del centro-sinistra che non ha alimentato più la cultura di coalizione, ha dimenticato di confrontarsi con i sindacati, con i player interessati che sono il nostro mondo e i quali dare delle risposte. Sono stato critico per questo perché invece ritengo che proprio sulla scuola pubblica, sull'istruzione, sui temi sui quali condividiamo ideali, valori, prospettive, obiettivi, noi dobbiamo costruire una coalizione di centro-sinistra che torni ad essere credibile dopo le batoste che abbiamo avuto alle regionali di recente ma anche alle politiche. È l'unico modo per essere di nuovo competitivi, credibile e soprattutto per fare il bene del Paese. Per aumentare i salari occorrono risorse, quelle che la scuola non ha. L'Italia è oltre un punto percentuale sotto di investimento rispetto al PIL. Ormai è un andare che riguarda svariati governi, possiamo dire, decenni di mancato investimento, di tagli, un dimensionamento che ormai è datato 15 anni, ma perché non si cambia? Allora, si deve assolutamente cambiare, su questo ha ragione, ci sono responsabilità che vanno al di là delle bandiere di partito e anche dei governi che si sono susseguiti. Il centro-sinistra, quando è stato al governo, non sempre è stato all'altezza del compito. Abbiamo parlato oggi anche del rinnovo del contratto per la scuola, che non abbiamo colpevolmente firmato, siglato e sottoscritto prima dell'insediamento del nuovo governo. Quindi ci sono errori madornali. Però una cosa è certa, che volere è potere, e che come in altri Paesi si riesce ad investire sulla scuola pubblica, anche in Italia dobbiamo fare lo stesso. Siamo in difetto. Se ci sono i fondi in altre realtà, ci saranno i fondi anche da trovare in Italia. Certo è che questo governo, anche nell'ultima finanziaria, predilige l'investimento sulla scuola privata e meno sulla scuola pubblica, evidentemente va invertita la rotta e insieme si possono costruire le condizioni perché, ad esempio, anche col PNRR e con i fondi europei si possano portare maggiori fondi sulla scuola pubblica. Io le faccio un esempio. In campagna elettorale abbiamo detto che la scuola, ramificata in tutto il territorio nazionale, può avere un ulteriore ruolo, quello di essere centro di aggregazione giovanile anche nei pomeriggi e nei weekend, che oggi svolge in Italia, soprattutto nelle periferie, soltanto gli oratori, lo svolgono gli oratori. La scuola invece ha questa possibilità. Attraverso i fondi del PNRR le regioni possono mettere in campo, anche i fondi europei al di là del PNRR, possono mettere in campo delle iniziative che coinvolgono i docenti, quindi i piani di formazione delle scuole, i docenti, i dirigenti scolastici, i giovani, di investire sulla creatività dei nostri ragazzi e magari scopriremo che facendogli studiare e approfondire fuori dagli orari scolastici musica, teatro, alimentiamo delle competenze, alimentiamo la creatività e la scuola svolge un ruolo migliore, un ruolo più efficace, che è un ruolo che porta anche maggiori fondi per la scuola. Ultimissima, lei ha detto che questa alternanza scuola-lavoro non va. Quante vittime dobbiamo ancora attendere per sospenderla, per interromperla? In 30 secondi può riassumere il concetto? Sì, io guardavo l'esperienza tedesca come un sistema da esempio, ma devo dire che ormai dopo otto anni che in Italia abbiamo erroneamente portato un esempio, un modello di alternanza scuola-lavoro, i troppi morti, le poche garanzie, la destrutturazione, l'assenza di programmazione sull'alternanza scuola-lavoro hanno fatto in Italia troppi disastri. In attesa di rivedere in toto questa alternanza e quindi questo sistema, c'è bisogno in Italia di sospendere, fermarsi a ragionare e non contare più morti di giovani studenti, di morti bianche, che nell'esercitare la scuola, l'istruzione, quindi incontrando il mondo del lavoro, si ritrovano a morire. Troppe famiglie stanno piangendo i loro ragazzi, ragazzi, fino a che non c'è questa riforma, noi siamo per la sospensione e quindi per ragionare, fermarsi e riflettere. Bene, grazie per l'intervento.